Siamo arrivati a Francesca, sono mei di Francesca, arrivati a Francesca, arrivati a Francesca, conoscete volte sentate quei amici mi spazio mi hanno detto che tu non sei per farvi badature io sono urino della fissina struttiva a me vanno pagato per stare qui non volete stare con me io ho per che ti tocchi non c'è problema aiuto facciamo di sacchetto per un lino ma pagate per un lino ma non hai rubato in ospedale ma non hai rubato in ospedale noi non vogliamo in ospedale un cappottetto è che sporca il verbo per raccogliere urina quello che siamo scattendo c'è anche il tubo da mettere il cappier c'è la prostata di prostata c'è la prostata di prostata facciamo dimenticare ci stiamo è sempre il cappettetto è sempre il cappettetto guardiamo colosso lei addio io mi metto dentro allora allora io prima quello ma è di caldo quello è il popogallo il popogallo questo è il popogallo questo è il popogallo musicia 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 quindi un giorno io starci lì con te un giorno raccogliamo un rinfo mettiamo nella sacchettatura e siamo a posto e questi ragazzi che vanno in bicicletta voi anche voi domani mettere la prostata in prostata stacceri attenti perché è un lavoro difficile se tu c'è cosa come quella di cavallo faccio se c'è cosa come quella di piccino difficili se c'è una codina piccolina difficile più non riuscire a capire cosa tu tu cominciai mi vengono in piccolo non mi diverso difficile come ti chiami capisci io mi chiamo urina dalla piscina pubblicità io sono urina della piscina prima non mi sembra lì c'è il pacco davanti io stanno lì ma se quando ti ricordo in ospedale che avevo urina della pesata io manco facciamo un pacco fermi per uscire è un pacco 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 stacceri tutti i piedi dopo ma noi stiamo bene adesso qua non c'è un pacco ciao ragazzi vuoi come chiamarci? come chiamarci? stecca? lecca allora ho già dato quello che dobbiamo dare stasera battiamo andiamo via i tuoi amici mi hanno detto di stare a notte per battare te quindi io stanno ti dormire non mi sembrava il caso stasera se stasera tu c'hai dei problemi ci sono io quindi io la ponte te ne metto pippo mettere lì pippo non le note pippo tu stare fermo ci pensi pippo stai a guardare che cazzo urina scolta urina io ti metto di chiaro tu non poter farlo ma è vero spazio io c'ho catetto è vero sì urina dica cani miei amici cani fuori da me siamo già in tre volete mettere anche cani siamo in sé cazzo catetena anche i cani anche voi mettiamo di catetena in un po' comunque io ti dicere questo fare il lavoro che faccio è un lavoro difficile tutti i giorni sempre mi chiedono di fare scopa di pulitura io poi ho fatto il tiro due anni vai a essere os 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 miseria io invece adesso essere diventato infermiero ucraina io invece però è è è è